Sono oltre 40.000 le persone controllate e 115 gli stranieri responsabili di fatti di illegalità espulsi durante i controlli a tappeto delle forze dell'ordine nelle stazioni di Roma, Napoli e Milano dallo scorso 16 gennaio. I dati della prefettura di Napoli indicano in 12.392 i controlli effettuati a Napoli, 133 le denunce e 12 gli arresti.